La Polizia di Stato, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse nei confronti di elementi di vertice affiliati a soggetti contigui alla potente cosca di Indrangheta De Stefano, operante a Reggio Calabria. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione ai danni di affermati imprenditori, aggravate dal metodo mafioso. Gli investigatori della squadra mobile, coadiuvati degli equipaggi e gli ufficio volanti della questura di Reggio Calabria, hanno eseguito anche perquisizioni domiciliari a carico degli stessi indagati. Al centro delle indagini ci sono i lavori di rifacimento di Corso Garibaldi e di Piazza Duomo della città dello Stretto. Il blitz della Polizia è scattato questa mattina all'alba. L'indagine denominata Nuovo Corso, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha documentato ulteriormente l'esistenza e l'operatività della cosca De Stefano sul territorio, soprattutto nel settore delle estorsioni in danno di imprenditori e giudicatari di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche. L'inchiesta della squadra mobile ha fatto luce sulle gravi vicende estorsive poste in essere in danno di un noto imprenditore reggino e di un suo consociato a giudicatari degli appalti pubblici per il rifacimento di Corso Garibaldi. Lo stesso imprenditore ha subito un'altra estorsione per i lavori di rifacimento di Piazza Duomo di Reggio Calabria.